Sì, Presidente, grazie per la parola. Un tema a noi molto caro, quello dell'impianto del salario nel terzo municipio. Ci siamo fin da subito adoperati all'inizio della nostra consigliatura proprio per affrontare l'enorme emergenza in riferimento alle problematiche legate agli odorigini che provocano questo impianto di trattamento meccanico-biologico costruito in una zona dove non doveva essere costruito perché di fronte via un asilo nido e comunque vi sono delle case nei pressi di questo impianto che ogni giorno purtroppo i cittadini sono obbligati a respirare quello che questo impianto comunque tratta. Ecco, sinceramente la nostra azione è stata fin da subito quella della riconversione dell'impianto e di risolvere il problema degli odorigini. Noi abbiamo trovato queste problematiche come anche con Rocca Sciencia, perciò rimaniamo basiti dal fatto che le vecchie amministrazioni abbiano avallato l'indicazione o comunque la costruzione di questi impianti in quei luoghi. Ecco, noi ci mettiamo la faccia su questo tema e ci siamo, come ho detto sin dall'inizio del mio intervento, adoperati per intanto riconvertire l'impianto perché la nostra linea di indirizzo è quella di riconvertire il TMB a una fabbrica di riciclo o comunque un impianto che non provochi più trattamento dei rifiuti in questo genere, perciò non tratti più l'indifferenziato, ma soprattutto per risolvere il problema degli odorigini. Su questo ci siamo adoperati anche in questi giorni, proprio insieme all'assessorato, insieme all'AMA, per trovare le soluzioni più rapide e più tempestive. Abbiamo affrontato anche la questione con i cittadini apertamente nel territorio, ripeto mettendoci la faccia, ma comunque insomma esprimendo una volontà diretta e netta che è proprio quella in tempi chiaramente legati poi alla raccolta differenziata di chiudere quell'impianto e di creare un'impiantistica più sostenibile in aree sicuramente non congestionate dove non è presente l'abitato. Perciò noi voteremo a favore di questo atto, ringraziamo l'opposizione che anche essa vuole portare avanti con noi questa battaglia, perciò il nostro voto sarà favorevole. Grazie.